Ma con chi sei andato? Ma niente, una stupidaggine, amare. Chi andava a pensare? Ma tu, hai capito cosa vuole? Eh, appunto. Va a sapere adesso. Ma perché, di? Ma questo qui chi sarebbe? Ma non so, una sera. Niente. Ma l'ho visto io. Me l'hai fatto vedere. No, no. No. Senti, è uno che può fare dei brutti scherzi. Ah, se per quello è un suo piccolo. Oh, Madonna, sono già qui. Cosa aspetti tu a cambiarti? Andiamo su subito. Dai, 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 dai.